Al Fioroni di Ellera va in scena uno degli ultimi big match del campionato. Ellera-Lama lotta al secondo posto. Ellera che viene da 12 risultati utili consecutivi. Lama che deve confermare quanto di buono visto nella vittoria rotonda con il Branca. Dirige l'incontro il signore reale di Foligno, coadubato dagli assistenti Criccu e Malacchi. Passiamo alla cronaca. Partono subito forti gli unici di Ciucarelli, quarto di gioco e incorna brevi. Provvidenziale Bartoccini che respinge sulla linea e a Vaccarecci battuto. Ancora brevi a centimetri dal gol dopo dieci minuti. Spone di Ricci e centrocampista bianco-celeste che da due passi spara clamorosamente alto. Squadra di casa che scende in campo con un 4-3-1-2 con Battistelli fra i pali. Marconi, Ricci, Zanchi e Lavano a comporre il reparto arretrato. Brevi, Ubali e Lanzi in mediana. Veneroso dietro a Polidori e Colombi. 12esimo ed è decisivo Battistelli. Doppia parata prima su Landi e poi su Poeti. È provvidenziale l'estremo difensore di casa che chiude la sala cinesca. L'arma disegnata da mister Santececa con un 4-4-2. Con Vaccarecci in porta, Mambrini, Borgobey e Bartoccini in difesa. Poeti, Benedetti, Rossi e Mancini in mezzo al campo. Valori, Landi, tandem d'attacco. Ci prova ancora l'eller al 22esimo, questa volta con Veneroso. La sua conclusione viene però facilmente neutralizzata da Vaccarecci. Oggi Battistelli sembra insuperabile. Ad un quarto d'ora dalla fine dei primi 45 minuti si presenta Poeti contro il portiere di casa. Ma ancora una volta il numero uno chiude lo specchio e con l'aiuto del palo devia in corna. Vicino al vantaggio è l'ama al 32esimo. Punizione insidiosa al limite di valori che la colpisce la barriera. La sfera esce però di poco alla destra del portiere. Ancora Veneroso a tre dalla fine che prova di impensierire Vaccarecci. La sua stoccata esce però a lato. Pochi secondi dopo il Lella trova la via del gol. Servizio di Polidori per Colombi che da due passi spiazza Vaccarecci e porta i suoi sui 1-0. Gara che si compromette ancora di più per il Lama al 45esimo. Bartoccini a terra brevi al limite dell'area. Per Reali è calcio di punizione e cartellino rosso per il difensore ospite. Si incarica della battuta Veneroso ma è ancora provvidenziale Vaccarecci che devia in corner. Passiamo ai secondi 45. Prova a rendersi pericoloso il Lama al terzo della ripresa. Imbucata di Bartoccini per valori che calcia però debolmente fra le braccia di Battistelli. 23esimo e Colombi si divora il gol del raddoppio. Attaccante bianco celeste che è lanciato a tu per tu con il portiere e prova il pallonetto. Ma la sua conclusione esce di poco a lato. Raddoppio e Elera che arriva al 37esimo. Ancora Polidori in versione assistman che serve in area Marconi. Colpo da viliardo del terzino di casa che la mette all'angolino e punisce un incopio a Valle Vaccarecci. 44esimo e il Lama rimane anche in 9. Spulso Bernic per proteste per un presunto penalty non fischiato da Reali. Elera che vince lo sconto diretto con il Lama e in virtù della vittoria della Narnese sul Bastia. Si posiziona al terzo posto in classifica. Tre giornate dalla fine. Lama che perde il secondo posto e anche il vantaggio sugli sconti diretti. Fabrizio Ciuccarelli oggi era importante vincere. Anche questo risultato del 2-0 vi favorisce negli sconti diretti. Quindi penso oggi si possa essere molto soddisfatto della squadra. Sì, sono soddisfatto perché tanto uno deve vedere tutti i 95 minuti. Siamo partiti bene, abbiamo fatto 10 minuti bene, abbiamo creato due buone occasioni. Poi dopo abbiamo subito il loro ritorno e il nostro portiere è stato bravo, bravo. Nel senso che ci ha tenuto in gara. Poi all'ultimo, alla fine del primo tempo abbiamo fatto gol e il secondo tempo direi che la partita è andata via. Per quanto riguarda le occasioni loro, poche per dire niente. Noi siamo stati bravi ad andare sul 2-0 e portare in porto. E poi, come hai detto te, al di là del risultato, della vittoria, è anche importante il fatto che abbiamo vinto con un gol in più di voi. Così in modo che adesso invece che fare i punti siamo un punto sopra. Massimiliano Tantececca oggi dovevate vincere penalizzante anche la sconfitta per 2-0 per vedere gli sconti diretti. Cosa può rimproverare ai ragazzi oggi? Dovevamo vincere, cioè noi dovevamo giocare, fare la prestazione, abbiamo fatto la prestazione e probabilmente non abbiamo vinto per piccoli episodi. Poi sta a voi, che avete visto la partita, dire perché abbiamo perso. Io probabilmente poi martedì parlerò con la mia squadra e dirò perché è successo questo, che poi non è successo niente.